Musica Salve amici appassionati Football Manager qui con voi come sempre c'è Mike94 e Football Manager Italia siamo qui con la Roma per la serie come impostare la carriera con una squadra siamo qui con la Roma come già detto di Joshua la sua squadra del cuore come squadra del cuore anche di Emanuele quindi questo video può interessare a tanti che dire è una squadra veramente assurda qui al Football Manager la Roma davvero molto forte infatti mi sono quasi trovato in difficoltà infatti mi chiedevo ma io che consigli posso dare già a una squadra così bella forte addirittura secondo me anche più completa del Bayern Monaco perché soprattutto in questo primo anno non ci sono, non ha nemmeno le Champions quindi la Champions League quindi ha solo Coppa Italia e Serie A quindi diciamo che è un campionato leggermente un po' più facile non ha nemmeno bisogno di tanti giocatori cosa che ha e ora li andremo a vedere ha una primavera con dei nomi veramente assurdi per quanto sono forti e anche vari giocatori in comproprietà da secondo me richiamare perché sono veramente ottimi talenti che possono servire alla squadra che dire per lo staff veramente tutti ottimi cioè avete un direttore sportivo buono e ovviamente responsabile sviluppo giovani conti guardate qua porca miseria è un drago e l'unico che manderei via lo sono anche scritto è Franceschini perché rispetto agli altri fisioterapisti fa un po' cagher perché ha solamente 12 poi per il resto sia come osservatori che come preparatori atletici veramente state messi parecchio bene abbastanza forse questo qui Claude cambierei però secondo me sono tutti abbastanza validi veramente validi e semmai fra questi due preparatori atletici ne manderei via uno sapete vi consiglio cioè io non so l'utilità di due preparatori atletici non credo che ce ne sia però se mi sbaglio scrivetelo nei commenti ok detto questo vi parto dicendo che io ho preso alcuni giocatori della primavera e anche alcuni giocatori in prestito non l'ho mai fatto ma lo faccio ora con la Roma per farvi comunque notare quanti talenti avete anche per l'anno prossimo veramente ragazzi la Roma è una squadra non pensavo sinceramente davvero formidabile sia avere esperienza in campo che come in prospettiva però ovviamente non fare il video se non c'è niente comunque da vedere ci sei qualche piccolo accorgimento qui vabbè la formazione ma ce la vedremo dopo vediamo un po' tutto quanto allora Morgan De Santis ovviamente lo conosciamo tutti io lo conosco abbastanza bene seguendo comunque molto il Napoli è sempre stato un ottimo portiere veramente ottimo veramente ottimo l'unica cosa alcune volte faceva delle piccole papere diciamo si dimenticava a volte di stare in porta però per il resto veramente è un fenomeno e io vi consiglio di fare di fare almeno questo anno da titolare e l'anno prossimo pensateci se o mandarlo via in casa di qualche offerta o comunque di tenerlo almeno come secondo l'anno prossimo avrà già 37 anni sicuramente ci sarà un piccolo calo se non ci sarà comunque giocando anche in Champions League vi servirà un portiere che anzi mi sono dimenticato di mettere un portiere che stavo pensando prima un portiere ancora più forte me ne ho segnati alcuni ma poi vi spiegherò quali e perché ve ne ho segnati perché comunque vorrei consigliarvi un portiere per gli anni prossimi e poi vi spiegherò anche il perché mi sono dimenticato di segnare uno e lo segnerò dopo Lobont allora parlerò di questi due giocatori contemporaneamente Lukas e Lobont allora in pratica è una scelta vostra se vi volete tenere Lobont fatevi fare questo anno da secondo anche perché è una persona molto importante per lo spogliatoio visto che dal 2009 ho sentito ieri vedendo una partita della Roma che è il terzo giocatore più longevo nella Roma dopo De Rossi e Totti quindi potrebbe essere molto importante per lo spogliatoio valutate voi se vale la pena tenerlo oppure no quindi se vi volete tenere Lobont bene se no vendetelo invece per quanto ricorda Lukas se decide di tenere Lobont io vi consiglio comunque di mandarlo in prestito per vedere se cresce almeno un pochino non ha un rapporto favoloso però sulla carta non mi pare affatto scarso soprattutto per un 22N quindi vedete un poco voi in prestito che cosa combina oppure se proprio lo volete tenere secondo me è un ottimo secondo infatti io ho deciso di mandare via Lobont visto che comunque qui nel mio database è ricercato e di tenermi il giovinotto Leandro Castan per me ha tutte le carte in regola per rimanere è ovvio che ci potreste fare sì un bel po' di soldi qui è richiesto dal Napoli ma vabbè ci potreste fare un bel po' di soldi però secondo me è un ottimo difensore sia all'età giusta e poi per essere titolare ovviamente è un buon contrasto buona marcatura eppure abbastanza veloce per me ha tutte le carte in regola è un buon impegno determinazione intuito posizione quindi secondo me è valido per rimanere titolare come non è valido proprio per rimanere lo sa secondo me è questo Vlad Marine che io rimanderei indietro alla Juve o al massimo mandatolo in primavera ma per me non vale proprio la pena tenerlo ovviamente Benazia è molto molto forte sicuramente l'anno prossimo lo sarà ancora di più comunque sicuramente vi arriverà un'offerta milionaria credo non ho mai fatto la stagione con la Roma però è un ottimo difensore già adesso anche ovviamente poi nella realtà Rafael Toroi prestito dal San Paolo mi pare che vogliono tipo 4-5 milioni per il riscatto e io ci penserei perché non è affatto male per un 22enne che può già comunque giocare in varie positions può ha contrasti 15 marcatura 14 colpo di testa 14 buona velocità davvero buona e guardate qua che qualità mentali sinceramente per un ragazzo di 22 anni è tanta roba infatti io l'ho messo come secondo quello che vi voglio dire è che io poi vi andrò a consigliare un difensore centrale che può essere già titolare per la Roma però quello che vi voglio dire è che voi siete pieni di difensori centrali in prospettiva bestiali come Team Vietbai guardate qui il rapporto 5 non vi azzardate a venderlo perché fra un paio d'anni diventerà una belba infatti io non lo manderei nemmeno in prestito lo terrei in squadra anche come riserva semmai fatevi fare da Benzia o da Castan la chioccia quindi fatevi imparare qualcosa da quei due ma veramente tenetelo perché è un fenomeno idem per Romagnoli solo che è un pelino meno fenomeno di Edvai anche sulla carta è di un proprio un pizzico più scarso e visto che comunque può avere solo un ruolo e lo so è una scemenza però comunque Edvai può anche fare il terzino destro lui no quindi è come se avessimo diciamo due giocatori in uno più o meno ovviamente non è così io manderei Romagnoli in prestito per fargli fare un po' le ossa anche perché ha un annetto in più per di Edvai quindi secondo me è giusto farlo giocare con continuità e soprattutto una cosa rinnovatevi il contratto perché scade nel 2015 niente stavo pensando che comunque anche già Benazia e Castan sono già comunque giovani entrambi 26 anni quindi non vi serviranno subito per sostituirli però comunque un po' per fare panchina e poi nel caso vi arriva un'offerta veramente milionaria per Benazia avete già un sostituto in casa insomma Capradossi uguale è forte in futuro diventerà ancora molto molto forte scuola Atalanta non è ancora pronto anche proprio solo per fare la riserva quindi mandatelo in prestito non ho visto il contratto vabbè va bene abbastanza bene vabbè ero dei rossi che ve lo dico a fare ovviamente tenetelo Maicon prende una barca di soldi di ingaggio però veramente fa paura cioè un mostro pure quest'anno nella realtà ha fatto davvero tanto bene però veramente un giocatore da da tenere almeno per quest'anno poi se l'anno prossimo vi arrivano 5, 6, 7 milioni di offerta io un pensierino ce lo farei come Torosidis sinceramente mi piace cioè può giocare sia come terzino destro che come sinistro ha ottima velocità marcatura cross e contrasti buoni qualità mentali molto buone a 28 anni quindi si potreste fare 5 milioni ma comunque non trovereste di meglio a questa cifra comunque già prontissimo per giocare Dodò io sono molto indeciso su di lui perché rapporto veramente ottimo diventerà molto molto forte infatti ero indeciso se tenerlo o mandarlo in prestito però visto che ci serve comunque un terzino in panchina oltre a Torosidis almeno diciamo non sostituto del sostituto io lo terrei semmai facendolo allenare anche da Maicon visto che sono entrambi brasiliani quindi si capiranno ancora di più Rodrigo Taddei dirò un'eresia per tutti i tifosi della Roma vabbè sapete benissimo che Taddei quest'anno alla Roma se n'è andato è scaduto il contratto come poi dice anche il gioco io proverei a venderlo perché cioè è un giocatore né carne né pesce se volete rinnovare il contratto però abbassatevi questo ingaggio che deve avere veramente tanto tanto alto è ovvio che per una squadra di media classifica e bassa potrebbe essere veramente un ottimo giocatore che qualità tattiche tecniche scusate sono tutte sopra al 10 tranne rimesse lunghe ma sti cazzi poi qualità mentale pure molto buone qualità fisiche pure discrete e non so che dirvi io più che altro per l'ingaggio lo venderei visto che ci sono alcuni giocatori da ingaggio altissimo che non possiamo vendere tipo Totti perché è un fenomeno anche se prende 8 milioni ma non vi dirò di certo vendete Totti poi Federico Balzaretti nel gioco qui è molto forte velocità diciamo sopra al discreto marcature cross e contrasti quello che noto io molto come terzino secondo me sono molto valide io gli farei fare almeno un altro anno da titolare se no ovviamente io non mi ricordo se uno o due proposte per sostituire almeno uno dei due terzini ma ripeto già avete Dodò pronto a sostituire Maicon o Balzaretti visto che Dodò è Mancino e comunque avete già Torosidis che secondo me è molto valido Michel Bastos che sinceramente mi aspettavo un po' più scarso al gioco invece veramente è un fenomeno perché guardate qua calci d'angolo calci piazzati cross finalizzazioni veramente abnormi tiri da lontano 17 ottima velocità forse qualità mentale un po' scarsegne però qualità tecnica e fisica sono proprio da fenomeno infatti io almeno quest'anno lo farei giocare quasi titolare non vi consiglio di tenervelo perché comunque vi chiedono 3 o 4 5 milioni sono tanti per un trentenne anche se è molto forte però conosciamo tutti Bastos io me lo ricordo con Lione perché giocavo a Pro Evolution Social con Lione ed era un fenomeno però conosciamo anche un po' la sua capa sciacqua ecco capa sciacqua sarebbe testa diciamo un po' così ballerina ecco vabbè Rajang Naingolan qui come rapporto non è un fenomeno però secondo me è veramente un ottimo giocatore completata la Roma e Caglia ridecidete voi se se prenderlo oppure o se prenderlo subito o arrivare alle buste c'è veramente un ottimo difensore eh difensore centrocampista poi può fare veramente tanti ruoli vi consiglio semmai di prenderlo che è veramente ottimo vabbè che Mistrot ma che cacchio ve lo dico a fare ha 23 anni è già un mostro quindi inutile ve lo dico Francis Obeng vi prego svincolatevi il contratto oppure vendetelo se ci riuscite ma se è della primavera della Roma no da Sant'Arcangelo non riesco a capire perché se lo sono se lo sono presi non lo conosco la sua storia però vabbè io lo lo venderei subito come manderei indietro questo tibolla al chievo perché non ce ne facciamo nulla vabbè Florenzi qui al gioco non lo so perché ma viene quasi sempre preso appunto dalla Juventus in comproprietà ma è un fenomeno veramente assurdo cioè sia come ala che come centrocampista davvero un giocatore assurdo non riesco proprio a capire perché lo vende ma io in un anno in un anno a me la Roma è anche andata in serie B non riesco a capire perché perché è una squadra veramente assurda non assurdo non è questo Valerio Virga lui viene dalla primavera ma lo svincolerei subito oppure proverei a venderlo anche se la vedo dura vabbè Pjanic che cacchio ve lo dico a fare un mostro Leandro Paredes ecco questo è un giocatore che avevo preso dalla primavera o dai giocatori di serie per far vedere questo fenomeno che fra un paio d'anni veramente diventerà un mostro Bertolacci è in comproprietà con il Genova io vi consiglio vivamente di riscaltarlo di prenderlo proprio per quest'anno uno perché non ci avete tantissimi centrocampisti sinceramente e poi perché questo Bertolacci davvero è molto valido sia come riserva per il momento ma in futuro secondo me è un ottimo centrocampista per questo io l'ho messo qui perché vi consiglio di prenderlo Gervigno prende un bel po' di ingaggio ovviamente dopo l'annata che ha fatto non vi posso dire di venderlo però se vi arriva un'offerta di 20-25 milioni ho un pensiero ce lo farei perché diciamo che in realtà si è dimostrato un fenomeno alla Roma qui non lo conosco bene sinceramente ovviamente vedo che è molto veloce qualità mentali discrete qualità tecniche discutibili cioè diciamo un ottimo tripling un discreto cross una discreta finalizzazione però vabbè anzi forse sono io un po' troppo critichino è comunque un ottimo giocatore ripeto non vi consiglio di venderlo perché comunque nel reale ha fatto benissimo quindi mi potreste dare diciamo del semipazzo gli Aitch qui è un fenomeno cioè 5 stelle a porto ovviamente sembra un mostro e ovviamente vi dico di tenerlo perché ha solo di 21 anni guardate qua che cacchio di caratteristiche che tiene ha solo da migliorare ecco un altro che ho preso dalle riserve Nico Lopez dell'Udinese in comproprietà all'Udinese io vi consiglio fortemente di riprenderlo perché secondo me può diventare un ottimo giocatore comunque anche se rimane così già è un gran giocatore di a meno riserva vabbè Luca Leonardi o lo vendete o lo mandate in prestito idem per Federico Ricci o lo venderei proprio ovviamente Francesco Sotti a parte si l'ingaggio di 8 milioni però porca miseria che belba finalizzazione 17 controllo di pallaventi passaggi 20 veramente un mito ottimo giocatore ovviamente non lo so io a dirlo batti a destro ovviamente non lo vendete qui qui nel mio database sta 4-5 mesi fuori però una volta ripreso io lo alternerei a tutti o comunque poi cambierei modulo vabbè vi faccio vedere dopo Tony Sanabria ecco questo è un altro giocatore che veramente diventerà un mostro 1,80 17 anni guarda qua finalizzazione 15 colpo di testa 15 freddezza 8 vabbè da migliorare però porca miseria determinazione 17 un giocatore che dribbling 15 quindi veramente ragazzi un futuro campione come già questo Valmir Berisha che è davvero fortissimo io qui l'ho messo cedibile in prestito perché gli farei fare almeno un paio d'anni in prestito perché secondo me non è proprio pronto per prendere il posto di di Totti anche perché poi ci avete già destro Lihaic e compagnia bella allora la formazione titolare sarebbe De Santis Balzaretti Castan Benazziamo Iconde Rossi Pjanic Strotman Michel Bastos Gervinio Totti ovviamente tutta cambiabile la formazione è quella diciamo di Luis Garcia cambiabile anche come fa lui con un 4 2 3 1 secondo me va più che bene già così la formazione poi in panchina c'è Lucas il portiere Toloi quello in prestito io lo terrei Toro Sidis che può giocare su entrambe le fasce Bertolacci io lo prenderei Nengolan Florenzi Florenzi che può giocare sia come centrocampista che come Ala insomma Lihaic Idem però più che altro anche sostituto di Totti poi vabbè c'avete anche Yedvai Dodò un centrocampista che vi vado a consigliare ora Nico Lopez e destro che ovviamente si deve riprendere allora che mi sono segnato vabbè un portiere che dovreste prendere almeno fra un anno massimo due quindi poi vi farò vi spiegherò anche perché della scelta dei portieri che ho cercato un difensore centrale ma non è per niente d'obbligo io ve lo ne ho messi un paio così giusto per anche se secondo me state a posto così un terzino destro un destro sinistro insomma per sostituire Balzaretti o Maicon se qualcuno dei due se ne va o anche comunque volete mandare via Balzaretti per l'età o Maicon per l'ingaggio un centro a pista già ve l'ho detto e un giocatore di fascia perché comunque può sempre servire visto che se non prendete Niccolopez oppure se destro ancora infortunato mettete Niccolopez come prima punta insomma sono tanti nomi che vi possono servire quanto o no diciamo sono dei consigli certo non potevo dirvi nessuno come questo lo volevo togliere ma non l'ho dimenticato come portiere mi sono dimenticato di mettere il classico Perin non ve l'ho mai consigliato però ora vi sento di consigliarvelo facciamo prima a cercarlo così Mattia Perin vi spiego anche perché ve lo consiglio vabbè mi pare normale perché è un mostro cioè ragazzi è veramente un fenomeno in futuro almeno su Football Manager mi auguro anche per lui per la realtà diventerà davvero un fenomeno quest'anno lo potreste prendere a circa più o meno 10 milioni gli anni prossimi non so bene a quanto quindi vi consiglierei di prenderlo ora e semmai girarlo un po' in prestito oppure già schierarlo titolare o almeno fai fare un anno in prestito stesso anche al Genova e poi schierarlo al posto di De Santis veramente un fenomeno se pensate che sia troppo giovane vi posso anche dare ragione per questo vi ho detto al massimo fatevi fare un paio d'anni in prestito e poi ve lo mettete titolare se no ci sono un po' di nomi parecchi nomi vi spiego anche perché ho messo ad esempio Berkic dell'Udinese che ha 27 anni che è già in scadenza quindi se voi già gli fate pressione dicendo dichiarati interessato eccetera e poi potreste prenderlo a parametro 0 a gennaio per poi ritrovarvelo a luglio e quindi farlo giocare come titolare poi soprattutto qui è infortunato quindi siete sicuri che almeno a luglio e agosto in questo mercato nessuno se lo prenderà quindi è già una sicurezza in più dovete comunque sperare che l'Udinese non gli faccia offerte o comunque spingere parlando alla stampa di lui insomma mi sembra un ottimo portiere ci sta ne ho messi un po' troppi devo dire la verità e Vincent questo qui non vi pronuncio il nome c'è una sola spiegazione oltre perché in scadenza è del Lille ovviamente sarebbe benissimo che Rudy Garcia è del Lille e credo che anche il suo secondo se lo sia portato da Lille quindi sicuramente conosceranno bene questo giocatore che potrebbe fare molto comido è comido comodo come ovviamente il tanto citato Benuanco Steel alcuni ve li tolgo perché sono davvero tanti si vabbè ma è difficile che venga ovviamente c'è anche Ochoa anche se in genere se lo prendono quasi subito e infine c'è anche questo David Spina che quando vi servirà il portiere quindi fra due anni nel 2015 è svincolato e a 24 anni io mi ricordo che un paio d'anni fa era davvero un fenomeno e a 24 anni è già veramente molto valido come portiere quindi secondo vabbè può anche fare la prima punta ma vabbè è valido e secondo me potrebbe essere un buon acquisto e a parametro zero fra due anni se voi già gli parlate e tipo lo fate lizzicare con con il Nizza il Niz vabbè come si pronuncia potreste prendervi un bel portierino ora sulla sulla fascia vi consiglio Davide Santon per due motivi uno perché ovviamente è un mostro e tipo per circa 10 milioni ve lo portate a casa marcatura 12 dribbling cross 15 contrasti 14 ottima velocità può giocare su entrambe le fasce e italiano e poi anche perché ho sentito proprio telegiornale che Santon era stato avvicinato alla Roma quindi perché non prendercelo vi ho detto un difensore centrale non è necessario però ve lo consiglio Davide Astori proprio per seguire la realtà del reale del calcio Davide Astori è andato è andato veramente alla Roma potrebbe essere un ottimo colpo di mercato perché qui sulla carta mi sembra un valido giocatore idem per Cristian Zavata si ok nella realtà fa il bello e il cattivo tempo gioca partite da mostro e altre da ipermica pippa qui io nel Milan l'ho sempre quasi tenuto titolare almeno il primo anno l'ho sempre fatto abbastanza bene e poi il Milan a volte lo vende pure a poco tipo 5-6 milioni quindi potrebbe essere un buon giocatore e ovviamente un nome un po' più costoso Juan Jesus che è veramente un mostro poi vabbè lo poteste pagare in 15-20 milioni che vi dirvi ragazzi davvero molto forte ma io vi ripeto che secondo me in difensore centrale non vi serve è giusto così per darvi un nome al centro campo più che altro vi manca un medianaccio un medianaccio che potrebbe essere proprio questo Pedro O'Biang circa 10 milioni lo pagate o poco meno e guardate qua veramente è un fenomeno questo ragazzo in mediana spacca proprio le gambe diciamo il futuro dei rossi anche se dei rossi ancora 5-6 anni avanti alla Roma questo anche poi starà a voi allenatori decidere il suo futuro però se siete romanisti vi chiedo che non lo manderete via comunque questo Bianchi potrà essere un suo ottimo sostituto se invece volete un centrocampista low cost e jolly io vi consiglio il solito buon albinecdall perché veramente costa tipo 2 milioni visto che la scadenza e può veramente fare tante fasi anche quella del mediano e vi potete portare a casa appunto una riserva con poco e comunque di una squadra italiana quindi che già conosce il nostro calcio è veramente valida Diego Perotti io ve lo consiglio perché qui l'ho visto nella lista trasferimenti lo vendono tipo a circa 5 milioni io mi ricordo che un paio di anni fa questo Diego Perotti era un mostro cioè cresceva tantissimo si diceva molto bene di lui non so se tuttora crescerà bene ma questo dipenderà anche da voi può essere un buon acquisto come Origi perché ho consigliato Origi sempre per lo stesso fatto che il suo secondo è del Lille il vostro secondo sarà del Lille comunque Rudy Cassie è del Lille e questo Divo Corrigi diventerà veramente un fenomeno e potreste prenderlo proprio sempre per il fatto che può giocare sia come punta che come ala veramente molto veloce poi ha solo 18 anni un prezzo un pochino alto però ve lo consiglio ultimo e apro una piccola parentesi che diciamo la continueremo anche in altre partite in altre puntate in altri video non abbiamo mai trattato del calcio olandese nel calcio olandese ci sono veramente tanti e tanti fenomeni e quindi visto che vi sto consigliando un'ala non vi ho mai consigliato appunto un giocatore di classe di scuola olandese perché non farlo ora diciamo aprire una piccola parentesi che potremmo poi continuare anche in un altro video o che ne sto facendo spiegando l'inizio del carriera dell'Ajax non lo so vedremo comunque questo Fischer è un mostro anche lui diventerà fortissimo il prezzo già questo è più sicuro è di circa 10 milioni però per un giocatore che veramente cresce tanto è bene quindi se vi serve un laterale lui farà al caso vostro ora mi stavo ricordando non mi ricordavo perché vi stavo consigliando così fortemente un'ala perché comunque Michel Bastos l'anno prossimo se non lo confermerete andrà via Gervinio io vi ho detto anche che se lo volete vendere se vi arriva una buona offerta io vi consiglio un po' di venderlo di 20-30 milioni voi c'avete già Florenzi che potrebbe sia giocare a centrocampo che sulle fasce anche se a centrocampo avete Pjanic Strott Manderossi poi Nengolan Bertolacci se vi prendete Obiang o Ekdal e poi c'avete anche Nicolopez sempre se lo prendete per questo se vi serve avete i nomi di tanti bei giocatori ripeto ragazzi sono consigli ma per me la Roma come squadra può rimanere così c'è questo buchino qui al centrocampo c'è il sostituto del famoso sostituto del sostituto che può benissimo essere ricoperto da Taddei per dirne una però diciamo per fare una squadra veramente competitiva io vi consiglio di prendere un mediano vi consiglio anche di iniziare a vedere per un portiere semmai anche non fra questi ma fra i big ovviamente Ter Stegen quello che si è preso ora è Barcellona o tanti altri c'è anche Rulli delle Studiantes che diventerà fortissimo lo prendete a poco veramente ci sono tanti nomi per il futuro ma io vi ripeto ci sono delle liste che vi do ora perché se no avrei fatto un video vuoto vi avrei detto semplicemente ragazzi la Roma è fortissima così fa schifo per quanto è forte e quindi non vi posso dare consigli no vi dico che ci sono dei cambi da fare sicuramente come Terzini fra un paio d'anni Balzaretto e Mycon non andranno più bene ovviamente Michel Bastos per quest'anno può andare benissimo l'anno prossimo non lo so poi ovviamente dovrete anche voi vedere quanto rendono Totti ha un contratto fino al 2016 quindi state a posto ripeto ci sono questi piccoli cose come il portiere anche io ve l'ho consigliati vi auguro ovviamente buona carriera e finiamo qui il video vi lascio come sempre quei consigli e quindi come sempre vi invito a mettere mi piace a commentare se avete altri consigli o volete chiedere altri giocatori che ne so se volete vendere uno che io per me è tipo incedibile voi lo volete vendere vi serve un sostituto chiedete benissimo e nient'altro fine basta se ovviamente volete sapere di un'altra squadra l'inizio di una carriera di un'altra squadra chiedete pure quindi come sempre commentate condividete iscrivetevi mettete un bel like come sempre un saluto a Mike94 e a Football Manager di Italia ciao ragazzi